Oggi in Abruzzo si registrano 83 nuovi casi positivi al covid-19 di età compresa tra 4 e 93 anni. Eseguiti 1.893 tamponi molecolari e 10.648 test antigenici. Nessun deceduto, 1.551 gli attualmente positivi. In lieve aumento i ricoveri in area medica sono 56 più 5 rispetto a ieri, 6 in terapia intensiva, in tal caso il numero resta invariato, 1.489 in isolamento domiciliare. I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila, dove se ne registrano 42, in provincia di Chieti 17, nelle Pescarese 5 e in provincia di Teramo 19. A Teramo, tra l'altro, il sindaco Gian Guido D'Alberto ha emesso un'ordinanza di chiusura temporanea fino al prossimo mercoledì 27 ottobre del servizio educativo nella struttura Il Girasole di Via Diaz. Tale provvedimento si è reso necessario a seguito dell'esito di un tampone molecolare il risultato positivo tra il personale educativo. È presumibile che tale positività sia da ricondurre a una situazione familiare, così l'amministrazione comunale di concerto con l'azienda sanitaria ha deciso di intervenire in maniera tempestiva. In queste ore è in corso l'attività di tracciamento per ricostruire tutti i contatti avvenuti nelle ore precedenti e successivamente si provvederà a predisporre specifiche verifiche sui soggetti interessati. Già nella giornata di martedì il personale entrato in contatto con il paziente positivo sarà sottoposto a tampone. Si tratta di figure che nella quasi totalità dei casi hanno completato comunque l'iter vaccinale. Nei giorni successivi sarà il turno di tutti i bambini e le bambine che rientreranno nel tracciamento.